Spero che loro conoscono questo brano, perché è un brano popolare del nostro paese, Taiwan, compreso anche i miei nonni, i bisnonni, anche se uno che è stonato comunque conosce sempre questo brano. Adesso è un brano più cinese, perché ovviamente sennò per loro questo brano è un po' come a Roma, a Rito, eh? Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.